Giovanni Scandiffio Vediamo quanto è accaduto in quelli pugliesi. Gli accertamenti all'interno della clinica a Bari rientrano tra le attività di controllo a livello nazionale dei NAS nelle mense delle strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche e private per verificare le condizioni igieniche e strutturali, nonché l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. In totale sono 21 le verifiche dei NAS tra le province di Bari e Bat, da cui sono scaturite per le diverse irregolarità riscontrate 12 sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro. Le irregolarità hanno riguardato problematiche igieniche e strutturali, la carenza di documentazione per la lotta agli antinfestanti e l'applicazione del manuale di autocontrollo. Due le segnalazioni in Basilicata invece, sono state 16 le ispezioni eseguite dal nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri di Potenza, durante le quali sono state accertate due non conformità, di cui una per lievi carenze strutturali comunque sanabili e una per la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo. I controlli hanno riguardato ospedali regionali nei quali si è proceduto alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei laboratori di preparazione, della detenzione e conservazione degli alimenti, informazioni sulla presenza di allergeni, aderenza dei passi alle specifiche esigenze nutrizionali e cliniche dei degenti, posizione contrattuale delle maestranze, possesso di adeguata formazione professionale. Giovanni a te. Intanto su questo discorso dei controlli dei nasi abbiamo visto che sono già due giorni che stanno praticamente battendo questa pista proprio per capire che cosa succede. Perché non è un problema che riguarda solamente una regione ma ambe due le regioni, quindi Puglia e Basilicata in questo caso, e sotto questo aspetto è chiaro che bisogna capire come le cose stanno andando. Per esempio, vediamo subito farmaci nel deposito per gli alimenti. La brutta sorpresa scoperta dai nasi. Siamo in Puglia e siamo a Bari, controlli in 21 strutture, ce lo dice il Corriere del Mezzogiorno, carenze igieniche nel centro smistamento pasti di una clinica. Poi ancora ci sono i controlli, quelli rutinari, quelli che si riescono anche a comprendere la famosa interpretazione del preferibilmente sulle date di scadenza, che non sarebbe consigliabile per quel che riguarda strutture di questo tipo, il preferibilmente cosiddetto. Però, voglio dire, non è quello. Il discorso è che nel deposito degli alimenti stiano pure i farmaci e chissà, forse anche viceversa. E questo intanto è uno dei riferimenti a cui fa appunto racconta nel suo articolo di cronaca Nicolò del Vecchio per quel che riguarda appunto Bari e i controlli che sono in corso. Mentre vediamo anche che in Basilicata si sta verificando tutto ciò, i NAS sono nelle menze degli ospedali, due segnalazioni sono state già fatte e sotto questo aspetto i controlli hanno a che fare con la necessità di garantire sicuramente uno standard importante per quel che riguarda appunto le strutture ricettive di questo tipo, quelle ospedaliere, perché altrimenti veramente andiamo ancora una volta verso il passato e questo non ce lo possiamo permettere, anche se per una serie di situazioni che non riguardano direttamente le indagini del nucleo antisofisticazione, ma riguardano anche altre situazioni. Va detto per esempio sul fronte del welfare, lo leggiamo dalla gazzetta di Basilicata, mancanza di programmazione regionale, incapacità di spesa, gli ambiti hanno personale a singhiozzo e le cooperative di servizio sono impotenti. Il titolo è soldi e progetti fermi e l'inclusione arretra, quindi diciamo la possibilità di interagire, di avere più o meno allo stesso livello coloro che hanno a che fare con delle affezioni particolari, pesa e pesa molto. E su questo Rosa della Filcom dice disagi per gli utenti e anche per gli educatori. Per la verità poi sul fronte invece della trattativa sulla sanità privata, così diamo tutto il quadro a questo punto, la Lega apre ad una mediazione, perché sapete che ci sono posizioni diverse anche all'interno della maggioranza stessa, insomma rispetto alla sanità privata che ha collaborazioni in particolare e attività, interazione come è previsto storicamente con la sanità pubblica. E sotto questo aspetto va detto che bisogna anche tenere presente questo discorso perché c'è stato un problema serio, mentre come vi dicevo già ieri perché era bella come notizia, si è aperto il primo spazio di pet therapy, quindi con i cuccioli, dice l'amministratrice dell'ASM, dell'azienda sanitaria del Materano e quindi siamo in Basilicata, piccolo passo per migliorare la risposta dei ragazzi autistici. Quindi è veramente, ma è un passo anche se piccolo, è un passo significativo, mi permetto di aggiungere, perché veramente la terapia con gli animali è molto molto importante. Ieri c'è stata l'inaugurazione dell'area all'aperto nell'ospedale Madonna delle Grazie, mentre quest'area sostanzialmente vedrà lì presenti sia gli affetti d'audismo e i cuccioli, o meglio gli animali, senza problemi di deambulazione, nel senso che l'area è ben messa, si scivola altrove, si scivola sulle nomine all'ASM, troppi scivoloni, lo dice Fialz e Conf Salmatera alla Regione, dovete fare urgentemente chiarezza, i sindacati dicono non riconosciuti i nostri diritti, pronti anche allo sciopero. E su questo va detto che poi c'è l'ultima affermazione, quella importante, che è quella del DG del centro di Melfi, che dice l'ospedale di Melfi deve essere potenziato. Spera sarebbe appunto è il DG dell'ospedale di Melfi. Insomma, poi parleremo anche di altro, intanto va detto che c'è una situazione, la acceniamo, su Stellantis ci sono problemi per quello che ha deciso di fare ultimamente. Ora andiamo a Taranto con i giochi del Mediterraneo che avranno un commissario, la Commissione Bilancio del Senato dà il Via Libera per il provvedimento. I giochi del Mediterraneo o Taranto 2026 saranno commissariati. La conferma del provvedimento già trapelato nelle scorse ore è arrivata dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha approvato un emendamento per il Via Libera alla nomina di un commissario, affinché venga assicurata, si legge nel testo, la tempestiva realizzazione degli interventi necessario allo svolgimento dei giochi. Il provvedimento si inserisce nell'attività del Governo per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 25 aprile. L'emendamento è stato proposto da quattro senatori di Fratelli d'Italia. Appena tre settimane fa, il Ministro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, ha inviato una comunicazione dai toni duri al comitato organizzatore, evidenziando una serie di criticità emerse dal report sullo stato di attuazione inoltrato al Governo. Situazioni tali, secondo il Ministro, da mettere addirittura a repentaglio lo svolgimento dei giochi, che coinvolgeranno 26 paesi. Il presidente del comitato, cioè il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il direttore, Elio Sannicandro, hanno risposto alla comunicazione sottolineando come i ritardi fossero spesso legati alle lungaggini nell'erogazione dei fondi ancora necessari, circa 150 milioni. In quell'occasione era stato chiesto un ulteriore confronto con il di Castero per superare lo stallo, ipotesi sulla quale al momento sembrano essersi chiuse le porte. È stato duro il commento del presidente della Regione Puglia, Emiliano. Il Governo non ha compreso, ha scritto in una nota, che il comitato organizzatore di un evento sportivo internazionale non è commissariabile. Ogni iniziativa relativa alle infrastrutture per la realizzazione dei giochi non può che pervenire dalle scelte del comitato organizzatore, che peraltro sono state già concordate col comitato internazionale olimpico. Emiliano inoltre esprime grande preoccupazione sul fatto che il commissariamento degli interventi per i giochi con le inevitabili lunghezze procedurali previste determini di per sé un rallentamento delle procedure in atto che rischia di compromettere il perseguimento dell'obiettivo. Giovanni. Ecco, intanto iniziamo qui. Su questo ovviamente c'è riferimento, ce n'è tanto, anche perché si è ritrovata a Taranto al centro dell'attenzione anche per altri motivi di tipo culturale, poi casomai ne parleremo. Intanto giochi del Mediterraneo commissariati, scrive in un taglio basso il Corriere del Mezzogiorno, ma Emiliano batte i pugni. Il governo non può mettere un comitato sotto tutela, dice in particolare. E dice anche su questo discorso del commissariamento, insiste, è specifica come su certe cose non si possa proprio pensare che si arrivi a tutto ciò. Repubblica addirittura, Repubblica Bari, apre, fitto toglie i giochi a Emiliano, il commissario a Taranto 2026, il primo via libera all'emendamento di Fratelli d'Italia sul grande evento con 4.500 atleti dai paesi del Mediterraneo, l'ira del governatore Emiliano. Adesso i tempi si allungheranno. Vediamo all'interno giochi del Mediterraneo, ecco qui. Stanno lì tranquilli e felici in questo caso, sorridenti, però evidentemente è una foto di qualche tempo addietro. Giochi del Mediterraneo, arriva il commissario Emiliano controfitto, non poteva deciderlo, non puoi commissariare, dice Emiliano, l'abbiamo letto prima, un comitato intero che è commissari. Vabbè, comunque, su questo poi è la politica che ci farà capire cosa succede e dove si andrà a parare. Intanto i giochi del Mediterraneo si devono fare, anche perché poi ci sono begli appuntamenti, insomma, ci sono soldi e denari non da poco, ma anche gli atleti, 4.500 atleti presenti, 25 le discipline sportive, sarà un momento molto molto bello e sotto questo aspetto vedremo come finirà questa querelle sul commissariamento. e vediamo anche come su questo la Gazzetta di Taranto dice un commissario per i giochi 2026 riaccende lo scontro tra PD e Fratelli d'Italia, calcolate che non sono lontani anche altri eventi di tipo più o meno elettorale, quindi è chiaro che su questo tutto può pesare. al Senato passa l'emendamento di Fratelli d'Italia che apre la strada al commissariamento, l'ira di Pagano contro Fitto, insomma, non è una cosa proprio tranquilla quella che si è verificata e su questo ci sarà sicuramente ancora battaglia, come anche su altro. succede che ci si scontri, insomma, calcolate rimanendo un attimo anche per quel che riguarda appunto a Taranto, sulla crisi dell'azienda municipalizzata, per esempio, si sta aprendo un tavolo ma restano le incognite future, dice sempre la Gazzetta. si apre un tavolo sull'AMIU, il centro-sinistra respinge l'ordine del giorno dell'opposizione, il comitato d'amministrazione resta in sella e poi ancora, prima della massima assemblea cittadina, trovano un'intesa con il sindaco Melucci, poi lasciano l'aula dopo le critiche riparte, partite dalla minoranza. Ancora, il presidente Mancarelli dell'azienda dice abbiamo avuto un percorso di risanamento finanziario, i lavoratori interinali, li ringrazio, ma rispetto la legge, su questo c'è anche un problema, quello appunto dei lavoratori interinali. Tra l'altro nel Consiglio durante i lavori c'è chi ha parlato, come il consigliere Liviano, di contabilità fantasiosa, ma esce dall'aula e non vota. Quindi sotto questo aspetto, in certi momenti Taranto è una fucina di eventi importanti, significativi, belli, tra l'altro ne parleremo tra un po' anche di questo, con la presenza del ministro San Giuliano, della cultura, ma anche di protesta degli operai in AS, esclusi dal rientro in fabbrica, esplode la rabbia. Ieri presidio davanti alla prefettura promosso da Wilm e USB e blocco stradale durante la visita del ministro San Giuliano. Su questo va detto, poi stamattina ci sono anche le dichiarazioni dell'amministratore di Acciaierie d'Italia, che era presente o che è presente per il precetto pasquale, devo dire che sotto questo aspetto è anche una cosa encomiabile, per carità, però su questo va detto che lui ha dichiarato in particolare che dall'industria viene anche l'aiuto per certi versi alla cultura. Vorrei ricordare che viene anche l'inquinamento in certi casi e anche incontrollato e i problemi, come dice lui, le problematiche ci sono, certo che ci sono, bisognerà trovare il sistema per far conciliare tutto tra ambiente da difendere, non dimentichiamo che c'è un processo in corso che si chiama ambiente svenduto pure, è la produttività, ovviamente con un occhio al grande, immenso tesoro che è rappresentato da questa bellissima cittadina ionica, dove tra l'altro tornano anche, e ci fa molto piacere apprendere questo, tornano dei reperti archeologici importantissimi e con chi dice, come San Giuliano, che siamo iniziando una nuova storia. Il Comune di Bari ha presentato il nuovo piano sociale di zona, 170 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Un grande investimento da 170 milioni di euro per i servizi sociali della città di Bari, con 190 euro pro capite a fronte di una media nazionale di 120. Si tratta del nuovo piano sociale di zona, il PSZ, ovvero la visione strategica, l'offerta dei servizi sociali e socioeducativi per il triennio 2022-2024. È un piano importantissimo perché è il più grosso piano sociale che sia mai stato fatto nella città di Bari, sono oltre 170 milioni, ma anche il piano che descrive il maggior numero, il maggior entità di spesa sociale e perciò di impegno in attività sociale del mezzogiorno. Perciò oggi con il piano che presentiamo, Bari è prima nel mezzogiorno come impegno sociale. Ci sono tantissimi nuovi servizi, sono servizi principalmente innovativi, di cui tanti sono anche stati presi come modello di buona prassi in Italia, tra cui ad esempio le esperienze di co-housing, le case di comunità, i condomini sociali, i progetti del dopo di noi, i percorsi di autonomia abitativa e autonomia lavorativa, i progetti di assistenza domiciliare, però sviluppando progetti di affido per adulti o anche ad esempio stazioni porte, posta per la povertà più estrema. Nel documento è anche molto importante tutta la realizzazione, abbiamo già impegnato, di tutti i fondi PNRR. Impegnati quindi fondi comunitari, ministeriali, regionali, ma anche in gran parte dal bilancio comunale. Più del 50% dei fondi che impegneremo nei prossimi tre anni sono di tipo comunale, poi ministeriale e poi chiaramente sono altri fondi di tipo regionale, PNRR, proprio di indicare la volontà politica, amministrativa importante che ci ha permesso anche di avere diverse premialità a livello nazionale. Oggi siamo qui a celebrare insieme alla città di Bari quella che è l'istituzione del piano di zona della città, dell'ambito di Bari. In pratica è bello perché si crea una vera e propria rete tra il ministero, che in qualche modo detta delle linee, la regione che detta altre linee, che sono per noi in qualche modo fondamentali, sono sette gli ambiti di lavoro, diciamo le tematiche che in qualche modo come linee di indirizzo. Di conseguenza poi ogni territorio, in questo caso la città di Bari che è un monoambito, in tutta la Puglia sono 45 gli ambiti, ma le città più grandi sono un monoambito come Bari, decide in pratica a seconda delle urgenze e dei bisogni, quale misure consolidare, confermare e quale innovazioni, quale altre progettazioni dare, sempre nell'ambito sociale. Tutto questo si arriva dopo un percorso di partecipazione, forse è l'unico assessorato che obbliga la partecipazione dal basso. Io addirittura ho partecipato ad alcuni piani di zona dove c'erano proprio invitati i cittadini. Questo cosa vuol dire? Che è il territorio che dice quali sono le esigenze, quali sono le urgenze, e poi viene tradotto dalla politica, in questo caso dall'assessore bottalico, oppure poi insieme ovviamente con tutta l'ufficio, con tutte le parti interessate, che possono essere poi il terzo settore, le associazioni delle famiglie, gli utenti, i coordinamenti o piuttosto che le cooperative sociali, insomma tutte le parti interessate e tutti i protagonisti del sociale insieme descrivono quelli che sono gli obblighi, i bisogni minimi della cittadinanza. La cosa bella è che in pratica ci sono anche dei principi che noi vogliamo che vengano rispettati in tutta la regione, cioè in maniera omogenea, alcuni servizi devono essere minimi per tutta la regione, come se fossero i laps, cioè per noi alcuni servizi sociali devono essere permessi, ottenuti da tutti i cittadini della regione, quindi ci sono degli obblighi, diciamo così, di servizio che noi diamo, ma parallelamente poi c'è piena libertà da parte dei comuni e poi sappiamo bene che il comune di Bari è particolarmente famoso, è importante per la innovazione sociale, per le grandi quantità di servizi, o anche molto alternative, innovative, quindi è sicuramente un motivo di vanto per la città, ma anche un motivo di esempio per gli altri ambiti. Il piano del comune di Bari è un piano, a mio avviso, straordinario, sia per l'investimento comunale che si va ad aggiungere a tutte le altre risorse, quelle regionali, quelle del PNRR, sia per la visione complessiva. È un piano che integra i vari interventi anche sotto aspetti che non sono considerati prettamente sociali, per esempio la qualificazione urbana, quindi inserisce la presa in carico dei cittadini in un percorso globale che nel contempo rivitalizza anche l'aspetto dei quartieri e quindi mette davvero insieme il sociale, il lavoro, la formazione, la qualificazione urbana. Quindi è davvero un piano che ha una visione complessiva di lunga portata, che si fonda chiaramente sull'esperienza che il comune ha in materia di welfare e che fa un passo in avanti anche sotto tutti questi aspetti. Giovanni a te. Beh, intanto va detto che sotto questo aspetto è la dimostrazione di come programmare in questa maniera è un dato anche significativo, importante, perché pensi a quello che sarà il futuro e quindi in questo modo si può iniziare a lavorare su questo fronte per poter creare delle occasioni anche di sviluppo, di occupazione e tutto il resto, ma anche fare in modo che la città se ne possa avvalere. Ed è molto significativo il lavoro messo a punto proprio in questo caso rispetto a tutto ciò. Vale a dire fare programmazione e poter rendere sempre più, come dire, migliorata e da un lato la sensibilità riguarda tutti quanti i cittadini e quindi anche gli stessi cittadini che se ne avvantaggiano, ma anche coloro che arrivano da fuori, è un momento sicuramente significativo. Sotto questo aspetto devo dire che questo elemento è molto significativo. Tra l'altro vediamo anche sui fondi del PNRR ricevuti, tre città sono nella top 15 in Italia, ovviamente lo vediamo, è ok Taranto e Bari, Foggia però è un caso. Vediamo subito, anche per quel che riguarda tutto ciò, vediamo lo studio del professor Viesti, ha tenuto conto del rapporto fra entità dei fondi e numero di abitanti, il capoluogo d'Auno fa segnare numeri preoccupanti sui dipendenti comunali, le carenze di questo tipo vengono sicuramente sottostimate. Ma poi ancora vediamo sul fronte dei progetti, welfare al capoluogo 3 milioni per i disabili, le famiglie indigenti, insomma tutto questo gioca una bella partita anche sulla capacità che giustamente ieri ha messo in luce, un po' ironizzando su una serie di fatti, l'ha messo in luce proprio il sindaco di Bari che è il presidente nazionale del Lanci quando ha detto, vabbè è ora di finirla, di dire che i sindaci non sono in grado di poter gestire le cifre e le poste del PNRR e sotto questo aspetto va detto che ritorna anche il discorso mai sopito dell'autonomia differenziata, dove abbiamo per esempio un commento che viene e che troviamo sulla Repubblica di Bari di Nicola Colaianni che dice l'autonomia differenziata è la padania che risorge, battere un colpo è un dovere, almeno a farci sentire. Secondo me dovremmo fare molto di più che battere un colpo e su questo sicuramente potremmo essere in molti ovviamente, tutti in maniera pacifica e incruenta però con ferma determinazione, continuare a dire, sostenere e dibattere in pubblico che l'autonomia differenziata è un tentativo di spoliazione pesantissimo nei riguardi del Sud, questo lo dobbiamo continuare a fare tutti e sappiamo che su questo abbiamo belle presenze di forza, di intellettualità e di cultura che possono contribuire a sostenere questo atteggiamento che deve essere quello di rivendicare quello che appartiene al Sud. Non è neanche pensabile lontanamente di collegare il discorso di tutto ciò direttamente e solamente per la gestione propria dei fondi, quindi quello che c'è, ognuno se lo tiene nelle sue tasche, no, quello che c'è deve essere reinvestito a favore degli altri. Grazie Giovanni, ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Ieri il Ministro per la Cultura, San Giuliano, è stato a Taranto in occasione della restituzione alla città del gruppo scultorio Orfeo L. Sirene. Per il Ministro Taranto deve diventare la capitale della cultura del Mediterraneo. Il gruppo scultore Orfeo e le Sirene torna a Taranto dove alla fine del IV secolo a.C. fu realizzato e negli anni 70 trafugato e portato via negli Stati Uniti al Marta il Ministro della Cultura. Io penso che la giornata di oggi, al di là della bellezza di questo gruppo che siamo chiamati a contemplare, ad ammirare, a ragionare, rappresenti questa giornata di oggi un punto d'inizio. Un punto d'inizio teso a sviluppare le grandi potenzialità culturali della città di Taranto. Mi viene in mente Gian Battista Vico quando parla di idem sentire comune. Che cos'è l'idem sentire comune? È l'insieme di quegli elementi che creano la storia, l'identità, l'essere di un popolo e di una nazione. Ripercorrendo le sale di questo splendido museo, che ritengo sia uno dei più importanti musei archeologici d'Italia e forse europei, noi tocchiamo con mano l'identità di questa terra. Taranto deve essere una capitale culturale del Mediterraneo, perché questa è la sua grande vocazione. Ed essere capitale culturale non significa fare una contemplazione museale, significa creare posti di lavoro, sviluppo, occupazione, reddito. Colgo come un segnale molto positivo quello che ha detto il Ministro con riferimento a fare di Taranto la capitale della cultura del Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo che ci stanno facendo un po' tribolare sono ovviamente una milestone, una pietra miliare per arrivare a questo obiettivo collegando Taranto a tutte le grandi capitali del Mediterraneo. Questo piano lo abbiamo in testa da molti anni e speriamo con la collaborazione di ministri come San Giuliano di riuscire a realizzarlo rapidamente. I dettagli particolari sono quelli che hanno individuato grazie alle indagini il luogo di scavo clandestino, il circuito che poi l'opera ha dovuto rispettare a causa di broker internazionali che l'hanno fatta arrivare fino in Svizzera, fatta restaurare in maniera improvvida ovviamente come è possibile constatare e poi dalla Svizzera arrivare a Malibu, al Ghietti Museum dove la fondazione l'ha acquistata da una nota casa d'aste. Ora le indagini hanno dovuto dimostrare lo scavo clandestino, l'esportazione illecita e la provenienza dal nostro territorio. Sono state indagini laboriose, complesse, internazionali e in questa attività investigativa coordinata dalla procura di Taranto è stato fondamentale l'apporto della procura distrettuale di Manhattan che è stato il nostro front desk negli Stati Uniti per poi riottenere la restituzione del trittico. Un trittico meraviglioso che sarà adesso affidato alle cure dell'Istituto Centrale di Restauro del Ministero della Cultura perché possa risplendere così come era un tempo probabilmente in un sito votivo antico del IV secolo a.C. Quanto è durata l'operazione se c'è stato un particolare che ha permesso di dimostrare che era un reperto di queste parti? Guardi, tra i particolari che ha permesso di dimostrare che era un reperto di queste parti c'è l'acquisizione di numerose testimonianze con le quali noi abbiamo costruito questo circuito a cui faceva cenno il procuratore questo circuito criminale complesso, composito e articolato che parte dallo scavo clandestino come sempre accade nel nostro paese e poi incontra questi trafficanti internazionali che riescono talvolta anche a falsificare i documenti di sostegno e di supporto per far viaggiare le opere e per poterle poi porre in vendita fino ad arrivare ad una vendita, in questo caso come nella maggior parte dei casi quando si tratta di grandi poli museali esteri vendita in buona fede, acquisti in buona fede e restituzioni volontarie quando si rendono conto di aver acquistato qualcosa che non potevano comprare E ieri dopo la visita del ministro al museo è arrivato anche il presidente di Acciaierie d'Italia Bernabè una giornata importante per la città ha commentato la cultura e la grande industria non sono in contrapposizione La giornata è molto particolare io sono qui perché abbiamo come sempre nello stabilimento l'arcivescovo che è venuto a fare il progetto pasquale e quindi ci tenevo a essere presente in un'occasione così importante per Taranto e per lo stabilimento e l'occasione ancora più straordinaria per il recupero di queste bellissime opere dal museo Ghetti di Los Angeles che ritornano nel luogo dove sono state sottratte quindi grazie ai carabinieri, grazie al museo che le accoglie e complimenti alla città perché il museo è veramente un'istituzione straordinaria che rende vanto alla città e dovrebbe essere ancora più conosciuto e ancora più valorizzato Oggi si è parlato di cultura come alternativa di sviluppo per il territorio può essere conciliabile con la grande industria? Ma guardi, la grande industria ha una funzione importante e ha contribuito oltre a creare dei problemi a creare anche delle grandi opportunità Io ricordavo stamattina nell'intervento che ho fatto per salutare i nostri dipendenti che dal 50 ad oggi la speranza di vita è salita da 55 anni a 80 e 85 per le donne quindi la crescita, l'industria, lo sviluppo ha portato grande benessere e ha portato anche tanta salute certo ci sono problemi che però vanno risolti e ho detto stamattina, il buon Dio ci ha dato l'intelligenza per risolvere i problemi e ci sono tutte le capacità per farlo Giovanni a te Beh, devo dire che sotto questo aspetto lo avevo accennato all'inizio il discorso appunto oltre a creare problemi dice l'amministratore di Acciaieri d'Italia l'industria ha anche sostenuto come dire l'altra industria quella culturale e questo è un evento importante certo a patto che si tuteli sempre l'ambiente e soprattutto bisogna dipingerla di verde come qualcuno ha fatto Pillinini una vignetta proprio dipingerla di verde per avere l'azienda green per quel che riguarda le Acciaierie d'Italia ma andiamo intanto a questo gran momento bello con la presenza del ministro San Giuliano Taranto ritrova i suoi tesori scrive il Corriere del Mezzogiorno Orfeo e le sirene al Marta San Giuliano dice quanta bellezza presente qui il ministro accoglie il capolavoro greco riportato in Italia dagli Stati Uniti e tra l'altro abbiamo ascoltato anche gli esperti delle forze dell'ordine tra i quali ci sono fiordi professionisti di altissimo livello che sanno anche accoppiare alla loro qualità culturale tutta la sapienza investigativa e arrivare a chiudere questi casi e devo dire che tra l'altro va detto che rinvenuta dai tombaroli negli anni 70 questa statua in particolare era finita in una banca svizzera poi l'acquisto da parte del Paul Getty Museum di Malibu a Los Angeles e poi nell'archeologico attuale nel Marta la collocazione delle tre statue è estemporanea in attesa di dar loro una dimora definitiva con il nuovo percorso museale e questo mi sembra anche importante aggiunge a questo punto su questo argomento il soprintendente Osanna dice giustamente il direttore dei musei di Stato mi perdoni direttore la sfida di Osanna presto altri scavi per capire dove sono stati trafugati ma vediamo anche su questo la gazzetta eccola qui termina l'Odissea di Orfeo e delle sirene riferimento ovviamente classico a Ulisse Odisseo nel nome greco statue al Marta il ministro San Giuliano a Taranto la città sia capitale culturale del Mediterraneo e questo noi ce lo auguriamo veramente dal profondo del cuore perché è un momento importantissimo questo museo merita davvero tanto come anche le istituzioni museali della Puglia e della Basilicata in particolare Orfeo e le sirene e al Marta ora tutte le indagini utili e vediamo anche l'inaugurazione a Taranto con il ministro San Giuliano il direttore generale dei musei Osanna risponde all'appello dell'archeologo Dandria sul Repubblica è l'inizio di un percorso e lo studieremo quindi ci sono ancora tante cose da recuperare per la verità sotto questo aspetto a parte una inevitabile polemica che poteva anche verificarsi era prevista insomma perché protesta degli operai l'abbiamo detto prima ne abbiamo parlato perché alcuni sono stati esclusi da rientro in fabbrica per quel che riguarda in particolare le acciaierie però intanto manifestazione anche per farsi sentire dal ministro San Giuliano pure questo succede presidio sotto la prefettura proprio per fare in modo che tutto ciò non passi proprio sotto silenzio ebbene che si facciano sentire dicevo prima cosa è successo sul fronte in particolare dei reperti dell'area ionica a Pulolucana ma anche Calabra sicuramente c'è un dato che è molto importante calcolate che la riforma fondiaria che ha visto come dire come protagonista principale proprio l'area ionica ha avuto come aspetto successivo la lavorazione delle terre e tutto il resto l'assegnazione delle terre il ritrovamento di tantissimi reperti archeologici molti dei quali purtroppo sono partiti alla volta dei musei privati come il Polghetti Museum di Malibu ma anche di tanti altri comperati per pochissime lire all'epoca c'erano le lire e venduti letteralmente poi venduti da intermediari trafficanti d'arte c'erano anche alcune persone erano in particolare gli agronomi i professori di agraria dell'università gli esperti e i dirigenti degli ispettorati agrari che hanno avuto a che fare con questi reperti incredibili bellissimi eccezionali e molti di questi hanno costituito dei musei musei privati va detto costituito musei privati visitabili su richiesta quindi dichiarati pubblici con i pezzi catalogati io ne ho visto almeno due o tre di queste cose bellissime veramente in case private devo dire tenute molto bene amorevolmente quindi sotto questo aspetto non c'è stato l'interesse come dire non dovete guardare mai dovete guardare le mani l'interesse a fare altro sotto questo aspetto ma a conservare proprio questi reperti così belli così eccezionali speriamo che si vada avanti nelle scoperte di tutto ciò e che ci sia sempre più attenzione a questo enorme patrimonio inestimabile patrimonio delle colonie magno-greche in particolare ma anche di quelle antecedenti a quelle magno-greche nell'Italia meridionale non a caso fu chiamata la magna grecia i miei galli e l'asso la grande grecia rispetto a quella degli emigrati che provenivano appunto dal territorio dai territori dalle isole e dalla terra ferma che era quella della penisola greca e prosegue l'iter della zona economica speciale ionica di Puglia e Basilicata a Taranto la firma del documento che detta le linee operative si aggiunge un tastello nel percorso della ZES cosa è avvenuto con questo tavolo di oggi oggi abbiamo dato formalmente vita all'istituzione di questo tavolo sociale un successo per tutti noi perché con questa firma oggi pomeriggio abbiamo suggellato la condivisione con tutti i principali attori protagonisti del nostro territorio la condivisione di obiettivi strategici di questa ZES i principali obiettivi sono la condivisione di quelle che sono le strategie di sviluppo della ZES ma anche un altro importante elemento cioè il monitoraggio dei livelli occupazionali delle aziende che verranno ad insediarsi nel nostro territorio questo vuol dire tener conto anche di quei bacini di crisi che in questo momento stanno affliggendo il nostro tessuto imprenditoriale economico e sociale quali saranno invece i prossimi passi in questo percorso dunque il tavolo avrà una cadenza periodica sarà supportato dalla struttura della ZES verranno affrontati diversi temi ne usciranno sicuramente delle iniziative sicuramente importanti un momento importante con la firma del documento per le linee operative della ZES quali sono le direttive sì è un momento storico mi permette a dire perché effettivamente si inizia a attivare il processo per l'insediamento delle aziende che vogliono investire sul nostro territorio come Confindustria Taranto e come Ance Taranto eravamo siamo contenti di questo momento e finalmente possiamo dire alle nostre aziende quali sono le modalità di investimento come procedere con i progetti e finalmente vedere in campo quelli che sono i nostri sogni farli diventare realtà c'è tutto un vantaggio fiscale ma soprattutto c'è un vantaggio di tempistica nell'adozione dei progetti e quindi nelle concessioni che possiamo avere ci sono diverse aree a Taranto nella provincia che possono riguardare questi investimenti nella ZES e quindi tutte le aziende di Taranto e provincia possono attivarsi qualcuno già si era attivata e iniziare a pianificare e programmare gli investimenti avendo una serie di agevolazioni fiscali come è andato l'incontro cosa è emerso l'incontro è andato benissimo perché abbiamo chiuso e firmato questo accordo sul tavolo che è un tavolo fondamentale per supportare l'azione del commissario della ZES le iniziative adesso finalmente possono partire ma soprattutto c'è questa concertazione da parte di tutte le associazioni di categoria dei lavoratori per supportare l'azione del commissario che altrimenti può essere slegata da quelle che sono le realtà territoriali che hanno urgenza di essere attenzionati in questo momento anche la CGL ha questo tavolo per la firma di questo protocollo perché? assolutamente sì perché per noi la ZES nella parte della Basilicata è chiaramente in coordinamento con la parte pugliese ionica in modo particolare l'abbiamo seguita sin dalla nascita dai DPCM e chiaramente questo per noi è un'opportunità perché evidentemente la ZES ci permette di commercializzare i prodotti attraverso la strada ferrata e attraverso il porto questo significa che sull'agroalimentare e sul manufatturiero noi riusciremo ad abbattere i costi per la commercializzazione e sicuramente questo determinerebbe uno sviluppo sia della Valbasendo ma senz'altro anche degli altri siti che fanno parte della perimetrazione della ZES a partire da Galdo Melfi Iesce la Martella Potenza e così via questo significa molto per la Basilicata in un momento di estrema difficoltà si sta creando un'opportunità concreta alternativa di sviluppo per il territorio io penso che l'obiettivo principale sia proprio quello provare a mettere le basi ad utilizzare gli investimenti e cercare di diversificare il territorio rispetto alle tradizionali attività sia industriali che anche artigianali l'opportunità c'è bisogna coglierle bisogna stare attenti noi ci metteremo del nostro per cercare di portare a casa i migliori risultati possibili chiaramente puntando a una buona e sana occupazione assicurando appunto che ci sia occupazione impiego delle risorse del territorio soprattutto bisogna valorizzare le risorse del territorio deve essere una mission principale però ripeto deve essere accompagnata da una sana occupazione e questo lo dico perché noi abbiamo esperienze in passato soprattutto a Tanto di risorse a pioggia che sono arrivate ma che sono state purtroppo in gran parte non utilizzate al meglio in questo caso dobbiamo fare di tutto per cercare di sfruttare e aumentare lo sviluppo dell'arco ionico diversificando al massimo le nostre prerogative industriali sana occupazione vuol dire anche formazione e la ZES passa anche per questo certo la formazione è un elemento principale che però deve essere finalizzata appunto a far crescere nuove professionalità da poter utilizzare in nuove attività il lavoro è tanto bisogna rimboccarsi le maniche e partire prima possibile una pedalata in tandem da Trapani a Trieste che ha fatto tappa ieri a Matera per diffondere un nuovo format riabilitativo che mette assieme lo sport le terre della legalità e un percorso di inserimento e terapia per persone con disabilità o dipendenze ieri dunque la tappa a Matera dopo un percorso di circa 100 km con partenza da Policoro ne parliamo con Pietro Cassano responsabile ingaggio dei soci Coppa Alleanza di Basilicata e Puglia in collegamento con noi buongiorno signor Cassano buongiorno buongiorno a voi allora ci racconta la finalità di questa iniziativa che ha fatto tappa appunto ieri nella città dei Sassi guardi il progetto di Cicling Pangea diciamo gestita da Alessandro Dalio a noi come Coppa Alleanza è subito piaciuto e abbiamo sostenuto il progetto perché appunto come diceva lei mette insieme lo sport il passaggio tra le terre confiscate alla mafia quindi la legalità il tutto per appunto diffondere un nuovo format riabilitativo volto all'inclusione quindi a superare determinate barriere e soprattutto a marcare quello che può essere il discorso di cooperazione cioè in tandem in due uno ha fiducia dell'altro e quindi si va insieme si coopera per raggiungere l'obiettivo finale che è quello di arrivare alla prossima tappa e sfatare il tabù che la terapia si possa fare solo tra quattro mura in buona sostanza assolutamente sì appunto lo sport l'aria aperta e sono proprio il simbolo di questa iniziativa per coppa alleanza 3.0 un'iniziativa che incontra in qualche modo la vostra politica attenta alle diverse abilità certo sì coppa alleanza sostiene tutto quello che sono i progetti rivolti all'ambiente alla solidarietà alla salute al benessere diciamo anche alla cultura quindi all'interno di questo progetto troviamo molto diciamo vicine alle nostre idee quello che fanno appunto i ragazzi di ciclo in Pangea vediamo delle immagini la presenza anche degli amministratori locali degli assessori Ferrara e Piscopiello 33 giorni per 32 tappe 2.300 km ieri dunque tappa nella città dei Sassi grazie a Pietro Cassano responsabile ingaggioso di coppa alleanza per la basilicata e la Puglia le auguro una buona giornata grazie a voi buona giornata a voi grazie Giovanni c'è una cosa che volevo mettere in luce appena la ritrovo ma non riesco a trovarla per ora però possiamo parlarne intanto praticamente che cosa è successo c'è eccoli qua l'ho trovato aiutateci ci hanno rubato il sidecar loro vanno con le biciclette ma questa coppia ha programmato di girare il mondo in sidecar e che è successo sono arrivati a Bari e il sidecar gliel'hanno letteralmente portato via mentre loro erano altrove il viaggio doveva durare 4 anni dopo aver girato Europa e Nord Africa ora la coppia si sposterà in Oriente Australia e Sud America va detto però che Austin e Delli in giro per il mondo hanno rischiato lo stop ma non è andato così perché? perché subito si sono rivolti alla Polizia Municipale e la Polizia Municipale ha ritrovato il sidecar e gli agenti della Polizia Locale hanno individuato il mezzo abbandonato vicino al mercato di Corso Mazzini a Bari e hanno contattato la coppia quindi il loro viaggio continuerà per fortuna e mi sembra una bella anche questa una bella iniziativa di voglia di girare il mondo ma anche essere un po' dovunque soprattutto viaggiare all'aria aperta perché il sidecar è una moto carrozzetta come si chiamava una volta in un altro linguaggio di qualche tempo addietro intanto volevo anche riprendere il discorso che riguardava in particolare queste nostre giornate della settimana santa e quindi vediamo Taranto per esempio dalla gazzetta di Taranto c'è settimana santa l'attesa è finita oggi la processione della dolorata quindi parte la processione della dolorata e poi ancora va detto che c'è una eccola qui la dolorata in processione dal pendio di San Domenico si rinnova la magia appunto dei riti della settimana santa e alle 15 la prima posta dei perdoni in pellegrinaggio un momento molto importante ma va detto che anche per quel che riguarda devo dire in particolare tutti i riti c'è una pagina bellissima della appunto della gazzetta però nell'edizione nazionale la voglio recuperare perché mi piace bella grande doppia pagina se la riesco a trovare che è proprio collegato al discorso della settimana santa momento importante in Puglia in Basilicata dove appunto oggi ci sarà questa grande attenzione per questo momento di fede di partecipazione di fede così sentito così importante è sicuramente un modo per eccolo qua l'ho trovata finalmente la cercavo Pasqua le radici del mistero è nella edizione della gazzetta di Bari tavola benedetta agnello e colomba e poi eccolo qui il paginone doppio i riti del triduo si rinnovano in tutta la provincia la settimana santa entra nel vivo si rinnovano fede e tradizioni vediamo anche appunto i penitenti scalzi tra l'altro tutte situazioni bellissime e poi anche in basilicata i riti della settimana santa sono tutti quanti suggestivi e molto molto devo dire veramente vividi da guardare da vedere da partecipare con il giusto la giusta dimensione dello spirito e a proposito di settimana santa ieri a Matera c'è stata la messa crismale in cattedrale dove è stato annunciato l'avvio del processo di beatificazione di Monsignor Vito Staffieri viene chiesto a questo di castero sulla causa dei santi se da parte della santa sede non si frappone alcun ostacolo alla causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio sacerdote diocesano Vito Staffieri morto nell'anno del Signore 1991 un'addio incidenza per Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo l'inizio del processo diocesano di beatificazione e canonizzazione di Monsignor Vito Staffieri annunciata durante la messa crismale in cattedrale l'editto emanato sarà esposto in tutte le chiese per alcuni mesi per raccogliere le informazioni e testimonianze necessarie la provvidenza divina ha voluto che proprio in occasione di questo momento così solenne venisse dato l'annuncio ufficiale del nulla osta da parte della congregazione dei Santi ha detto l'arcivescovo di Matera Ersina e della diocesi di Tricarico è il giorno in cui il presbiterio mostra il suo vero volto il senso dell'appartenenza a Cristo e alla chiesa che servite con amore e dedizione dell'unico sacramento che ci lega più che il sangue nella famiglia dell'unica missione per cui ogni cosa che fa uno appartiene a tutto il corpo presbiterale e alla chiesa è la messa degli oli infatti oltre all'olio del crisma che richiede una particolare confezione attraverso un rito molto significativo che evoca il soffio dello spirito i profumi che vengono mischiati e la preghiera consacratoria che evoca il significato dell'olio richiamando la consacrazione di un tempo dei sacerdoti dei re e dei profeti vengono così benedetti anche l'olio dei catecumeni e degli infermi una speciale comunione per la prima volta con i confratelli sacerdoti della diocesi di Tricarico unita a quella di Matera Ersina con Monsignor Caiazzo è iniziato un cammino di comunione che porterà a vivere e condividere diversi momenti di vita spirituale e pastorale a partire dalla prossima giornata di santificazione sacerdotale al santuario della Madonna di Picciano di benedica di benedica di ogni potente che fa figlio e spirito santo grazie in particolare al cuore diocesano ecco voglio una ricorda Giovanni velocemente velocemente proprio anche perché ci sono due diaconi e devo dire che questo contrasta la crisi delle vocazioni due diaconi verso il sacerdozio a Matera ieri hanno prestato il giuramento alla chiesa il 22 aprile prevista l'ordinazione sacerdotale Stefano Casamassima e Antonello Petrocelli al culmine di un percorso di 18 anni devo dire che sotto questo aspetto quindi un minimo di ripresa importante anche nel discorso delle vocazioni mi sembra significativo proprio in questa settimana santa poterlo salutare mentre proseguono i lavori per rimettere al suo posto la statua di Sant'Eustacchio lì a piazza sedile nel centro della città dei Sassi probabilmente per il 20 maggio sarà possibile riavere il santo copatrono della città pubblicità torniamo tra poco si svelgerà nel weekend dell'immacolata dall'8 al 10 dicembre nel fine settimana dell'epifania 2024 la seconda edizione dell'evento natalizio del comune di Gravina Nativitas così come annunciato ieri a Palazzo di Città la presentazione è stata l'occasione per siglare e cominciare l'avvio di un gemellaggio con la città di Castellana Grotte oltre che mettere insieme tutte le associazioni che partecipano all'iniziativa come Monfort la Passio Crissi e la Forti Smurgia di Altamura è stato ribadito un concetto caro all'amministrazione parlare di territori perché come ha detto il sindaco di Gravina da soli non si va da nessuna parte ecco perché rispetto a tutti gli eventi organizzati dai rispettivi comuni si lavorerà finché non vengano programmati nelle stesse giornate come avviene ad esempio avvenuto negli anni scorsi tra la fiera di Gravina e Federicus ad Altamura c'è stato proprio un impegno in tal senso da parte degli amministratori dei comuni murgiani L'incontro di oggi è stato finalizzato sicuramente ad aprire le porte verso una collaborazione tra il comune di Castellana Grotte e Altamura quindi Gravina per la prima volta si trova a dover collaborare con questi due comuni ci troviamo per la prima volta a non avere più protagonisti e antagonisti all'interno di questa realtà ma ad essere tutti attori di un unico e grande meraviglioso film Siamo felicissimi quest'oggi di aver aggiunto Gravina in occasione di questa conferenza stampa dove nasce ufficialmente questo rapporto di gemellaggio di partnership di collaborazione tra la città delle grotte e quella delle Gravine questo intento ha avuto inizio quando con l'attuale amministrazione di Gravina abbiamo interloquito penso al sindaco all'assessore Schinco all'assessore vicino all'assessore al turismo condividendo quelli che sono dei percorsi turistici e le affinità che se vogliamo a livello di territorio morfologico esistono tra il carsismo della città delle grotte e la città di Gravina abbiamo in comune un progetto che candideremo quindi possiamo dire ufficialmente per i presepi viventi insieme alle grotte di Postume alle grotte di Castellani e alla città di Gravina oltre ad avere una partnership dove riserveremo con la città di Gravina degli eventi che abbiamo in mente di condividere con loro in modo tale che possiamo interscambiare e far sempre di più rete e strutturare il turismo affinché i territori limitrofi le amministrazioni lungimiranti quelle che pensano che bisogna uscire dalla propria logica localistica per assicurare futuro e miglioria del proprio territorio possano condividere così come è successo con loro questo percorso per questo motivo Castellana Grotte c'è ci sarà e offriremo già dalla fiera di San Giorgio la comunicazione ufficiale della nostra partnership con la presenza di uno stand all'interno della fiera della città di Castellana e delle grotte di Castellana ha partecipato a questa unione con la città di Gravina con la città di Castellana Grotte con le associazioni Monfort e Passo Cresti di Gravina per formalizzare una collaborazione per lo sviluppo del territorio murgiano è uno dei principi dello statuto dell'associazione stessa APS Fortis Murgia per dare maggior sviluppo a un territorio che per anni è stato abbandonato a se stesso e grazie all'attenzione della regione Puglia è stato dichiarato addirittura che Altamura è città turistica grazie all'evento Federicus speriamo che unite ai nostri nuovi collaboratori potremmo dare un senso all'intero territorio che ne ha tanto bisogno donne lavoro e futuro a Lecce la seconda edizione del festival dedicato alla parità di genere si alza il sipario al teatro Apollo di Lecce per la seconda edizione del Women's Equality Festival una due giorni dedicata alla parità di genere talk e dibattiti dedicati ai diritti e alle opportunità ma anche alle disparità di genere nel mondo del lavoro dal palco quindi vengono lanciate linee guida per il futuro durante il festival trattiamo un po' tutte le tematiche quindi dal lavoro all'impresa alle opportunità di studio ma anche tematiche quali la violenza di genere quali il linguaggio e l'inclusione tematiche veramente di diverso tipo che convergono tutte sul aiutare a contrastare le disparità di genere è estremamente importante raccontare come si suol dire le buone pratiche e per l'appunto certamente per quello che riguarda l'imprenditoria femminile le donne che ce l'hanno fatta come imprenditrice e come manager all'interno di grandi organizzazioni ma ovviamente questo non è rivolto solo alle donne quindi è un invito a tutti i giovani i ragazzi e le ragazze anche a prepararsi alle professioni del futuro che richiedono certamente delle competenze completamente diverse rispetto a quelle del passato e quindi questo grande punto interrogativo del lavoro del futuro è un tema certamente molto molto impattante sulle nuove generazioni in particolare resta un po' il tema del così favorire da parte delle ragazze l'abbracciare anche carriere e percorsi di studio tecnico scientifici che ancora risentono un po' di qualche pregiudizio da questo punto di vista l'evento si è svolto a Lecce per il secondo anno ed è stato promosso anche da Regione Puglia noi in Regione abbiamo cercato di fare il possibile con la legge sulla parità retributiva che abbiamo approvato per primi con quei bandi che servono per incentivare le donne a creare imprese come il bando Nidi come il bando Tecno Nidi ma per questo è indispensabile che si crei un nuovo equilibrio in cui il rispetto verso l'altra viene prima di tutto e così abbiamo finalmente la possibilità di generare una società più uguale che consente alle differenze di emergere e di competere liberamente senza avere l'oppressione ancora di padroncini che pensano di poter gestire chi sta sotto di loro sul palco si sono alternate le voci di scienziate attiviste giornaliste ed esperte con interventi dedicati all'impresa e al lavoro con un'attenzione particolare alle eccellenze imprenditoriali del Sud Italia la diversità è sicuramente una risorsa importante importante in tutti i contesti culturali e sociali anche in quello dell'impresa perché soltanto l'inclusione di ogni diversità può consentire di raccogliere tutto quel valore che esiste nelle tante persone che animano con la loro competenza la realtà di un'azienda per poterne appunto ottimizzare la crescita e garantire un valore certamente fare impresa a guida femminile ha delle sue difficoltà ha delle sue difficoltà a farlo al Sud ma è importante in occasioni come questa mettere a confronto delle realtà che hanno avviato dei percorsi di inclusione e di valorizzazione appunto delle diversità per fare in modo che si possa essere da stimolo anche ad altre realtà per seguire questi percorsi e comunque anche per chi li ha già avviati imparare da altre realtà aziendali che magari hanno intrapreso la stessa strada ma con delle sfaccettature diverse e ottenere sempre delle occasioni di miglioramento Giovanni abbiamo tante notizie ancora da vedere velocemente intanto volevo ricordarne qualcuna locale in Puglia va detto che c'è una preoccupazione per quel che riguarda in particolare la brucellosi che è una malattia infettiva che riguarda in particolare gli animali torna l'allarme brucellosi una task force sul Gargano la regione ha istituito una zona rossa in sette comuni ma in Puglia l'ultimo caso di contagio umano risale al 2021 quindi sotto questo aspetto un minimo di preoccupazione c'è come un pochino preoccupati sono anche per quel che in Puglia sono i consiglieri che hanno a che fare con appunto la la regione i costi della politica dopo le contestazioni sul 2022 i consiglieri cominciano a restituire i soldi del 2020 dice il titolo regione nei bilanci c'è pure il portaborse con il premio la Corte dei Conti contesta il bonus mensile erogato ad una segretaria e dice chiariremo tutto va bene aspetteremo i chiarimenti vediamo in Basilicata invece abbiamo intanto sei comuni del Materano apprendiamo a un passo dal sacchetto selvaggio contratto scaduto la società di raccolta non vuole proroghe mentre sotto questo aspetto appunto vi dicevo il discorso dell'inclusione e poi ancora le caldaie a gas sono pezzi da museo è una campagna che ha lanciato Lega Ambiente e Chioto Club per poter sostituire tutte le caldaie a gas ma c'è tempo parte passerà il giro d'Italia in Basilicata quindi anche questo è previsto ci saranno si sta già iniziando a lavorare per i controlli mentre va detto che per quel che riguarda ancora la regione con termine alla Puglia non c'è pace per Iacobellis già sindaco di Scanzano che denunciò i clan intimidazioni e altro c'è anche uno scontro per la nomina in tribunale e finisce a altare la designazione del nuovo presidente della sezione penale di Matera va appunto sotto questo aspetto poi archiviare la morte di La Greca i PM liquidano come un suicidio il decesso della trentenne caduta dal balcone a Potenza nell'ottobre del 2021 mentre per quel che riguarda l'omicidio Pucillo i PM provano a restringere il campo dei sospettati sono alla caccia di tracce di DNA differente da quello appunto della vittima e anche pare ci sia ci siano anche degli oggetti ritrovati particolari e quindi su questo ci sarà da guardare il tutto con grande attenzione mentre grossa protesta da parte del circolo La Scaletta a Matera nei riguardi della regione per quel che riguarda l'Academy dure critiche a Galella dal circolo appunto cambiata la sede del progetto e dice il presidente Stasi la regione riavvii il dialogo in città sono a rischio 3 milioni il consigliere Viziello dice chiamiamoli ambedue convochiamo in commissione Galella e Stasi e vediamo di capire che cosa si deve fare e come si deve fare insomma questo per quel che riguarda del quadro complessivo diciamo un po' della politica appolo-lucana ma le aperture di oggi come avrete avrete visto forse girando i giornali sono per Berlusconi paura per Berlusconi l'ex premier ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano affanno respiratorio accorrono i familiari dice il fratello è una roccia ce la farà ansia per Berlusconi ricoverato in terapia intensiva appunto al San Raffaele e poi c'è una cronistoria rispetto alle affezioni le malattie i ricoveri dal cuore alla uveite fino al covid tutti i ricoveri di Re Silvio per la verità la notizia è rimbalzata dovunque su tutte le agenzie del mondo in tutte le agenzie del mondo ma anche direttamente possiamo dire dal Washington Post ad Al Jazeera hanno parlato del ricovero di Berlusconi e noi auguriamo che tutto vada per il meglio che sia qualcosa che passi timori per Berlusconi apre così il Corriere della Sera il leader di Forza Italia in terapia intensiva malattia del sangue e polmonite mentre vediamo anche la foto del Papa che bacia un bambino il Papa torna tra i fedeli letteralmente l'udienza all'aperto colpi di tosse e il messaggio all'aperto tra l'altro devo dire che il Papa è un uomo coraggioso il Papa torna tra i fedeli e dice sono ancora vivo poi ancora Trump è contro i giudici l'assenza di Melania e le voci di un divorzio anche la foto Repubblica mette la foto di Berlusconi rispetto al suo ricovero ricoverato in terapia intensiva e il fratello dice ce la farà mentre apre su sud fuga dalla scuola e bocciati per le assenze in 83.000 quest'anno si teme il raddoppio in provincia di Napoli picchi del 60% di abbandoni rispetto al nord pochissimi istituti hanno le menze i ritardi nei progetti rischiano di bloccare gli interventi del PNRR quindi muoversi per fare in modo che si possa andare avanti non vogliamo dimenticare una notizia che è di cronaca perché il riformista da oggi non è più diretto meglio da ieri già non è più diretto da Sanzonetti ma è diretto da Matteo Renzi e quindi vediamo anche questo cambio e questa presenza alla dirigenza di un direzione di un giornale la vignetta mi piace quella che ha questa volta messo Marassi dove ci sta l'ex presidente Trump con il suo ciuffo ribelle e dice Trump arrestato per una porno star e il commento di Trump è questo come per il David non capiscono l'arte non capiscono l'arte per il David per via delle mutande al David e per lui che aveva a che fare con una star porno alla prossima grazie Giovanni ci salutiamo con un approfondimento abbiamo fatto cenno in apertura durante i primi minuti di questa trasmissione all'ospedale di Matera è stato inaugurato il primo spazio pet therapy live special torna domani buona giornata seguendo la scia delle iniziative organizzate in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo l'azienda sanitaria locale di Matera ha inaugurato uno spazio pet therapy presso l'ospedale Madonna delle Grazie si tratta di uno spazio all'aperto a disposizione del personale sanitario e dei pazienti per interventi riabilitativi educativi e terapeutici ad esempio per coloro che vivono situazioni come l'autismo entrare in relazione con un animale permette di promuovere il senso di benessere accrescendo l'autostima e migliorando complessivamente la qualità della vita la giornata di oggi è importantissima è un piccolo passo in un cambio culturale nel rapporto con gli animali fondamentale soprattutto per il recupero di tutti i nostri pazienti fragili questo è una piccola testimonianza guardate è veramente un cambio di passo aprire questa quest'area significa testimoniare la nostra vicinanza il nostro impegno il nostro sforzo soprattutto nei bambini che hanno delle difficoltà e questo vuole stare a significare che noi ci siamo e ci siamo anche con la pet therapy l'ospedale è stato aperto a tutti gli animali d'affezione noi vi aspettiamo e speriamo di esservi sempre più vicino quest'area funzionerà che nel momento in cui il terapista della riabilitazione il logopetista il neuropsichiatra infantile o anche il medico comunque una figura che fa parte del percorso di riabilitazione può accedere a quest'area o con l'animale del bambino o del paziente oppure con uno degli animali dei nostri per esempio dei nostri due canini e dei nostri operatori un piccolo appello mi permetto di rivolgerlo a tutti voi i nostri canini sono tenuti molto molto bene con degli operatori che vogliono molto bene i nostri animali fate un salto e adottate un piccolo cucciolo o anche un animale un po' più anziano oggi l'adozione è importantissima perché dà possibilità a un cane di uscire dal canile dà una famiglia di avere il beneficio di avere un cane con lui importante è adottare perché i cani ce ne sono tanti e speriamo che vanno in ogni casa a parte il covid che c'è stato un boom di adozioni voglio dire circa 300 nella nostra struttura però anche nel 2022 siamo arrivati a 270 280 per questo voglio dire il covid è stato un punto diciamo nevralgico però ancora continuiamo ad adottare perché comunque i nostri canili sono aperti tutti i giorni anche nei giorni festivi e anche noi abbiamo le pagine facebook per questo voglio dire cerchiamo di diciamo pubblicizzare più possibile per le adozioni il canile il canile è l'alternativa alla strada però ogni cane ha diritto di avere la propria famiglia e dunque io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando di venire presso le nostre strutture e valutare la possibilità di prendere in adozione un randaggio che dire le adozioni ne facciamo sempre un paio di 200 l'anno però rispetto a quello che propone il territorio sono sempre irrisorie per cui più adozioni si fanno più si risolve il problema del randagismo e più cresciamo culturalmente oggi è una giornata molto importante importante sia dal punto di vista della sanità sia dal punto di vista come dire della civiltà nel vero senso perché con queste attività che noi stiamo attivando non facciamo altro che dare il giusto significato il giusto valore agli animali di affezione che stanno nelle nostre case noi tutti sappiamo dal punto di vista empirico abbiamo avuto modo di verificare ciò che gli animali ci danno dal punto di vista dell'affetto eccetera però bisogna specificare che questa positività che gli animali ci danno è suffragrata dalla ricerca scientifica infatti gli studi scientifici ultimi ci dicono che gli animali possono avere dal punto di vista dell'interazione ci possono dare qualcosa ancora di più e quindi hanno un vero effetto terapeutico in determinate situazioni per cui noi ci siamo attivati come direzione strategica e come dipartimento di veterinari di portare avanti un progetto per poter fare in modo che gli animali vengano utilizzati in maniera appropriata nell'ambito della terapia e della pet therapy la pet therapy che adesso viene chiamata diciamo terapia assistita con gli animali quindi viene come dire diciamo assunta vera e propria terapia tant'è che per poter effettuarla espletarla c'è bisogno di una preparazione particolare tant'è che tutti gli operatori che dovranno far parte prendere parte a questa attività si stanno formando abbiamo attivato tutto un processo di formazione sia dei psicoterapeuti che dei veterinari e del personale ausiliario questo a livello di pet therapy però noi abbiamo iniziato anche il discorso dell'ingresso degli animali diciamo degli ospedali delle strutture diciamo di ricovero già da adesso in questo ospedale nell'ospedale Madonna delle Grazie gli animali possono entrare quindi far visita ai loro familiari che sono ricoverati questo perché noi vogliamo facilitare questo rapporto questo rapporto con gli animali che la persona malata deve continuare anche nelle situazioni anche di estremo disagio anche appunto perché l'animale è un componente della famiglia e quindi il rapporto con il paziente con la persona che si trova in uno stato di difficoltà deve essere agevolato per adesso il progetto prevede solamente le visite degli animali ai pazienti a breve non appena sarà completato il processo di formazione tutta l'attività di formazione del personale che prenderà parte a questa attività sarà gestita come qualsiasi altra attività sanitaria quindi verrà effettuata una prenotazione e ci sarà sarà attivato un percorso diciamo di terapia in collaborazione anche con le associazioni diciamo di volontariato eccetera noi come ASL abbiamo voluto portare avanti questo progetto perché sappiamo abbiamo evidenza di quanto l'animale abbia competenza nell'offrire aiuto nelle relazioni d'aiuto appunto e ci teniamo e ci crediamo fortemente è un progetto al quale teniamo tantissimo l'utilizzo del cane ormai è sdoganato e quindi anche la possibilità di accesso alla cura di accesso per chi è in cura in ospedale per noi è un obiettivo importante quello di poter consentire ai pazienti ricoverati l'incontro con il proprio pet perché questo agevola tantissimo nella terapia all'inaugurazione del nuovo spazio presenti le principali associazioni di materia e provincia che si occupano di autismo insieme ai loro ragazzi quanto è importante la pet therapy per i ragazzi autistici beh lo dice a uno che ha presieduto la quarta commissione nella scorsa legislatura dove questa legge è stata approvata quindi non posso rispondere che sono entusiasta finalmente di vedere la finalizzazione di una legge che fu amata discussa studiata e approvata all'unanimità dalla quarta commissione nel 2017 molto importante soprattutto in alcune patologie tipo l'autismo e io qua stamattina sono all'onore di rappresentare Aura Blu che è un'associazione di famiglie che si sono posti il problema dell'assistenza agli adulti con autismo un grandissimo problema che vede purtroppo la medicina moderna disarmata quanto a terapie farmacologiche e riabilitative lo scopo di questa associazione è proprio quello di portare all'esterno i bisogni di queste persone che praticamente sono abbandonate è molto importante l'epid therapy nel nel completamento delle attività di abilitazione per l'autismo parliamo di autismo perché siamo nel mese della consapevolezza siamo vicino alla giornata della consapevolezza il 2 aprile voglio cogliere però l'occasione per fare un appello un appello alle istituzioni un appello che si faccia rete che tutti insieme istituzioni aziende sanitarie famiglie scuole facciano rete abbiamo bisogno che vengano approvate le linee guida per l'autismo abbiamo bisogno di strutture specializzate con professionisti specializzati e che quindi anche questa attività di pet therapy venga inserita nel piano abilitativo di ogni ragazzo e persona con autismo abbiamo bisogno di aggiornarci culturalmente di fare un salto culturale e quindi di dare formazione formazione alle famiglie ai professionisti formazione agli insegnanti dobbiamo far sì che tutti possano essere formati e informati sull'autismo per rendere l'esistenza di queste persone il più abilitante possibile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti